Trasmette tutta la manifestazione in diretta web. Puledre di due anni, categoria numero 2, pronta all'ingresso. Grazie per la visione! 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 Grazie a tutti! Grazie per la visione! 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 Grazie a tutti! Grazie per la visione! Grazie a tutti! 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 e a tutti! Grazie 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 a tutti! e a tutti! e a tutti! e a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! a tutti! Grazie a tutti! e a tutti! a tutti! e a tutti! con il numero 31! e a tutti! e a tutti! a tutti! a tutti! e a tutti! e a tutti! tipo... e... 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 l'ultimo... e... 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 e...